Simeone Ci hanno davvero dato un volto assolutamente concreto, robusto, un volto all'attacco come ha sempre detto al primo minuto dal momento in cui è arrivato Simeone qui a Catania Cioè una squadra che realizza anche parecchi gol, che si scopre perché lui dice il calcio per me è una vocazione offensiva, lo vedo così E quindi magari a volte sbaglio però l'importante oltre che non prendere soprattutto segnali In Serie A il Catania non aveva mai realizzato due gol per quattro gare consecutive Cioè da quando il Catania sta in Serie A quattro volte consecutivamente il Catania non aveva mai segnato due gol a partita E dice pure che nella gestione di Simeone nessuna partita si è conclusa sullo 0-0 Con Salvo Bianchetti è strano però voglio ricordare anche a Melo Russo che il Catania si è salvato cambiando un allenatore in corsa Facendo approdare a Catania due giocatori dei quali ieri Simeone ha tessuto un po' le lodi perché a proposito di lodi insomma Dal suo piede sono arrivati quattro punti fondamentali Quindi bravo il Catania come tutte le squadre hanno la facoltà di recuperare a gennaio E' dato l'assist Allora la cosa interessante Cosa dice qua? Voglio dire che poi sarebbe pensare anche un po' troppo C'è una schermata che dimostra che il Catania ha vinto con Carmelo Di Bella nel 61-62 tre partite consecutive Diego Simeone a maggio tre partite giocate e tre vittorie consecutive Quindi potrebbe battere addirittura il record di Carmelo Di Bella Chiaramente però il Catania deve andare a giocare con l'Inter a Milano Né che sia proprio una partita delle più semplici Sono tutte e due squadre tranquille Facciamo una cosa Se dimostrano secondo me se il Catania gioca con la stessa intensità Con la stessa forza Ma chissà La terza schermata perché mi pare probabilmente la più significativa di tutti La media punti in A dei tecnici del Catania nella gestione pulvirenti Guardate un attimo come si mettono i numeri I numeri ci dicono che Mialovic ha una media punti a più partite di 1,56 In 24 partite quindi abbiamo uno score decisamente più ridotto in 17 partite rispetto alle 23 di Sinisa Mialovic Simeone ha realizzato 1,41 Cioè Zenga Che era quello che ci aveva impressionati sul calcio probabilmente spettacolo Quello che ci aveva dato maggiore energia in un momento particolare 1,13 come media punti Marco Giampaolo 22 punti in 20 partite La sua media si attesta all'1,10 e quindi Scusatevi Sembrano inezie Ma tra l'1,10 di Giampaolo in 20 partite E l'1,41 ci passano davvero qualcosa come 4-5 punti nella media Pasquale Marino uno di quegli allenatori che portò il grande respiro del calcio della Serie A a Catania In 38 partite la realizzò 41 punti con una media di 1,07 Chiudono Baldini che in 31 partite E lì insomma qui ci appesantiamo un po' Perché soltanto 29 punti con una media di 0,95 Il peggiore Abbiamo uno score di 15 partite Ma anche in questo caso è sicuramente meno significativo di quello di Baldini Però è certamente ancora più basso E' quello di Azzori con 0,60 9 punti in 15 partite E fu l'anno in cui probabilmente davvero decisi farmi biondo Perché altrimenti se non ci fosse stata questa macumba Probabilmente non ci saremmo manco salvati Scherzo